Pochi mesi fa abbiamo preso una casa in campagna. Io mi ci vedo a sistemare il giardino, organizzare il barbecue. Chi mi conosce mi direbbe, beh, tu, la bici, la natura, ce l'hai fatta. È in questi momenti che penso al mio rimpianto più grande. Non aver acceso quella sera le luci della bici. Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona strada. Renderti ben visibile quando vai in bici può salvarti la vita. Grazie.